raduno delle cinquecento d'epoca 10 11 giugno 2017 orvieto 9 giugno 2017 era d'uno delle cinquecento d'epoca basta guardare la targa più già terni 83.000 andiamo avanti sempre terni l'abarth terni 24.000 la mia era 8724 e qui andiamo all'abarth e fra poco questa è una foto del 1952 con diversi amici a casa perazza la targa della mia topolino era 8724 1952 decappottabile con questa ho fatto anche il viaggio di nozze con mille chilometri punto sembra un poeta eh ci avevamo un fotografo ufficiale no non è ufficiale chi lo conosce è un obbista eccolo lui è facebook un po' voi andate a cercare se volete sapere qualcosa torvieto antico soprattutto non c'entro niente va bene questa è sempre la vecchia topolino nell'anno 1956 quello che rappresentava per la nostra famiglia 1956 che ho usato è la regina allora pacchetto e ha detto che lo facevi usate cambiamo allora guarda pacchetto 12 braccia che viene 85 dammi qua la novella sennò io ce la faccio aspetta no appiccia ma quant'è con questo fino vabbè ce lo posso dire no non attaccamo l'ultimo che è l'ultimo costa guardare i prezzi di l'ultimo per chi lo volete di poco e l'aspetta non vabbè se c'è la dico mi portassi tutta la basta se no ti fa una cosa quello vuoi se trovo il c'è l'ultimo il maestro cambia questa è la macchina dell'organizzatrice la signora Teresa Rosciarelli veramente sarebbe la macchina di mio figlio che però la gestisco quasi sempre io quando andiamo mai raduni perché lui sta fuori dopo tra un pochino viene va bene ci vediamo qua la piazza dell'uomo è il è è no ecco me l'ho detto se tu sai era loro a mano arrivano si parla di 175 macchine vecchie 500 questi sono gli ospiti che io conosco tutti quanti lui non me ne ricorda io sono mio figlio Paolo questo è Gigi Lucci è la vettura di Gigi Lucci tante belle macchine 180 macchine 500 tappi è la vettura di Gigi Lucci uno sguardo al Maurizio l'alto versante del Duomo sempre a 170 gradi si parla di 180 macchine alcune macchine in particolare Terni 68904 Roma D03 facciamo una carellata in mezzo alle macchine Groseto è bella questa sembra nuova Roma Torino Roma Viterbo Viterbo eh beh questa è nuova Viterbo troviamo Terni troviamo Terni Terni 110 106.692 Terni 94.887 Perugia Perugia C.S. Viterbo Arezzo Siena Siena la prima volta che trovo in Siena Terni 103.788 non lo dico perché non me ne ricordo la tarda non lo dico perché non me ne ricordo la tarda 115.695 Ci sono pure io simbolicamente nel 1952 Allora, ti saluto al cifro, via, finito Un'ultima panoramica Sempre a 170 gradi E con questa breve sequenza Questa breve sequenza Terminiamo la ripresa Un'ultima panoramica Un'ultima panoramica Un'ultima panoramica